Libera la cultura Dona il tuo 5x1000 a Wikimedia Italia Scrivi 94039910156 Virus, biologia Disambiguazione Vira rimanda qui Se stai cercando altri significati, vedi Vira, disambigua Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico, leggi le avvertenze Un virus, dal latinovrus, veleno, è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi I virus possono infettare tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi, compresi altri agenti infettanti come i batteri, e anche altri virus Molte specie di virus convivono all'interno di sistemi viventi ospiti in modo simbiotico e gli individui di ogni specie animale, compreso l'uomo, ospitano normalmente un elevato numero di specie virali simbionti, che formano una popolazione detta viroma I virus nella loro forma isolata, detta virione, sono entità biologiche ultramicroscopiche, ossia invisibili al microscopio ottico, a differenza dei microrganismi Le loro dimensioni infatti hanno un ordine variabile dalla decina al centinaio di nanometri, mentre un microscopio ottico raggiunge al massimo i 0,2 micrometri Si tenga presente che un micrometro è un milionesimo di metro, mentre un nanometro è mille volte più piccolo, un miliardesimo di metro Sono composti da filamenti di DNA o RNA racchiusi all'interno di un involucro proteico, detto capside, possono inoltre contenere enzimi, essere circondati da un ulteriore involucro esterno, formato da uno strato lipidico, ed essere dotati di altri tipi di proteine Le forme dei virus possono variare notevolmente, ma alcune sono più comuni, tra queste vi sono le tipologie sferiche, quelle poliedriche, come pure quelle elicoidali, filiformi, amorfe o composite La scoperta dei virus risale al 1892, quando Dmitry Ivanovski descrisse in un articolo un agente patogeno non batterico in grado di infettare le piante di tabacco, da cui nel 1898 Martinus Beyerin scoprì il virus del mosaico del tabacco Da allora, circa 5000 specie di virus sono state descritte in dettaglio, anche se si ritiene che ve ne siano milioni I virus si trovano in quasi tutti gli ecosistemi della Terra e rappresentano l'entità biologica più abbondante in assoluto La disciplina che si occupa dello studio dei virus è nota come virologia, una subspecialità della microbiologia I virus hanno diverse caratteristiche degli esseri viventi poiché possiedono un genoma, si riproducono e si evolvono attraverso la selezione naturale Tuttavia, secondo la maggior parte degli autori, pur contenendo DNA o RNA, in quanto non organizzati in cellule, non dotati di vita autonoma e non in grado di replicarsi autonomamente Queste non sono considerabili esseri viventi, poiché ne possiedono solo alcune caratteristiche sono stati descritti anche come organismi ai margini della vita o come replicatori Quando non si trovano nella fase dell'infezione o all'interno di una cellula infetta, i virus esistono in forma di particelle indipendenti e inattive Queste particelle virali, note anche come virioni, sono costituite da due o tre parti I, il materiale genetico costituito da DNA o RNA, lunghe molecole che trasportano le informazioni genetiche II, un rivestimento proteico, chiamato capside, che circonda e protegge il materiale genetico e in alcuni casi, terzo un involucro esterno formato da uno strato di lipidi, che circonda il rivestimento proteico, detto pericapside Non tutti i virus sono dotati di questo secondo involucro, i virus delle piante ad esempio, in genere ne sono privi I virioni possono avere forme semplici, elicoidali e icosaedriche, ma anche architetture più complesse La maggior parte dei virus possiede virioni che sono troppo piccoli per essere visti con un microscopio ottico In media il virione ha una dimensione di circa un centesimo della dimensione media di un batterio Le origini dei virus non sono chiare, possono essersi evoluti dai plasmidi, o dai trasposoni e retrotrasposoni o come prodotti di degradazione del DNA cellulare, o ancora durante la fase del mondo ARNA, cioè prima dell'origine della vita L'evoluzione per i virus è un importante mezzo di trasferimento genico orizzontale, il che aumenta la loro diversità genetica I virus hanno bisogno di un ospite, una cellula, eventualmente parte di un organismo pluricellulare, o un altro sistema biologico, per replicarsi ma hanno anche la necessità di trasmettersi da un ospite all'altro Il processo può avvenire in molti modi, quelli delle piante hanno generalmente necessità di un vettore, cioè un organismo intermedio mobile Pertanto spesso vengono trasmessi da pianta a pianta da insetti che si nutrono della loro linfa, ad esempio gli afidi Lo stesso meccanismo può avvenire negli animali a opera di parassiti succhiatori di sangue La maggioranza dei virus non vegetali ha però capacità di trasmettersi senza il contributo di altre specie vettori I virus influenzali ad esempio si diffondono direttamente da un ospite all'altro attraverso le esalazioni respiratorie e ricevono particolare diffusione tramite fenomeni come tosse e starnuti I norovirus e i rotavirus, comuni cause di gastroenterite virale, sono trasmessi per via orofecale vengono trasportati e depositati in luoghi esterni, come oggetti, alimenti o fonti d'acqua, tramite contatto e possono entrare nel corpo con cibo e bevande contaminate L'HIV è uno dei numerosi virus trasmessi attraverso il contatto sessuale o dallo scambio di fluidi corporei, come il sangue L'insieme delle tipologie di cellule che un virus può utilizzare per replicarsi, viene chiamata il suo ospite Si tratta sempre di cellule dotate di sistemi adatti a replicare le sequenze genetiche contenute nel virus Inoltre, i virus devono anche essere dotati di meccanismi specializzati per riuscire a oltrepassare le membrane delle cellule ospiti Alcuni virus sono in grado di infettare solo pochi ospiti, altri invece sono in grado di infettarne molti Negli animali, le infezioni da virus dannosi provocano una risposta immunitaria che solitamente elimina o comunque neutralizza il virus infettante Gli animali sono generalmente dotati di difese molto potenti nei confronti dei virus dannosi, che consistono non soltanto in meccanismi di risposta, automatica o mirata, ma anche in barriere fisiche e chimiche molto difficili da oltrepassare per i virus esterni Le risposte immunitarie possono essere prodotte anche da vaccini, che conferiscono un'immunità artificialmente acquisita per l'infezione virale specifica Tuttavia, alcuni virus, come quelli che causano l'AIDS e l'epatite virale, sono in grado di eludere queste risposte immunitarie e provocano infezioni croniche Poiché i virus non hanno un metabolismo, i farmaci antibiotici non possono eliminarli e non hanno alcun effetto diretto su di essi Sono stati osservati effetti indiretti di taluni farmaci antibiotici e antiparassitari che inibiscono meccanismi vitali delle cellule ospiti, ma la loro efficacia resta dubbia o marginale Indice 1. Etimologia 2. Storia 3. Caratteristiche 4. Origine 4.1. Ipotesi regressiva 4.2. Ipotesi dell'origine cellulare 4.3. Ipotesi della coevoluzione 5. Microbiologia 5.1. Proprietà vitali 5.2. Struttura 5.2.1. Elicoidale 5.2.2. Icosaedrica 5.2.3. Prolata 5.2.4. Incapsulata 5.2.5. Complessa 5.2.6. Virus giganti 5.2.7. Morfologie peculiari 5.3. Genoma 5.4. Mutazioni genetiche 5.5. Ciclo di replicazione 5.6. Effetti sulla cellula ospite 5.7. Gamma degli ospiti 6. Classificazione 6.1. Classificazione ICTV 6.2. Classificazione di Baltimore 7. Ruolo nelle malattie umane 7.1. Epidemiologia 7.2. Epidemie e pandemie 7.3. Tumore 7.4. Meccanismi di difesa dell'ospite 7.5. Prevenzione e trattamento 7.5.1. Vaccini 7.5.2. Farmaci antivirali 8. L'infezione in altre specie 8.1. Virus degli animali 8.2. Virus delle piante 8.3. Virus dei batteri 8.4. Virus degli arcaia 9. Ecologia dei virus 9.1. Ruolo negli ecosistemi acquatici 9.2. Ruolo del permafrost 9.3. Ruolo nell'evoluzione 10. Applicazioni 10.1. Scienze della vita e medicina 10.1.1. Viroterapia 10.2. Scienza dei materiali e nanotecnologie 10.3. Virus sintetici 10.4. Armi 11. Superclassificazione 12. Note 13. Bibliografia 14. Voci correlate 15. Altri progetti 16. Collegamenti esterni Etimologia modifica Modifica wiki testo La parola virus deriva dalla parola latina vrus, che significa tossina o veleno. Quelle del mosaico del tabacco sono state le prime formazioni virali a essere osservate dall'uomo nel 1892, per opera dello scienziato russo Dmitry Yosifovi Ivanovski. 15. Furono inizialmente chiamati virus filtrabili in quanto passavano attraverso filtri che trattenevano i batteri, filtri in ceramica a porosità micrometrica ma, a differenza delle semplici tossine, potevano essere trattenuti da ultrafiltri. 15. Saranno classificati definitivamente come virus nel 1898 dal botanico olandese Martinus Willambellerin, il quale, usando esperimenti di filtrazione su foglie di tabacco infette, riuscì a dimostrare che il mosaico del tabacco è causato da un agente infettivo di dimensioni minori di quelle di un batterio. 16. La scelta del vocabolo latino vrusca usa problemi nel voler ricavarne il plurale, come si suol fare nella tassonomia, vedi animalia per animali, plantae, per piante, ecc. 17. Essendo una parola neutra della secondo declinazione e terminando in Stati Uniti nei tre casi diretti, nominativo, accusativo e vocativo, è considerata irregolare. Si declina nei casi obliqui, genitivo, dativo e ablativo, con il sinonimo vennum. Dovrebbe essere singolare tantum, a cioè soltanto il singolare, come riso o aria. In circostanze particolari potrebbe essere reso plurale, ma non ci è giunta tale forma. L'UOV, orniturnier, nella loro classificazione del 1962, propongono e usano la forma vira. In ambito anglofono viene usata la forma errata viri, da vri, più che altro per riferirsi ai virus informatici, mentre in ambito biologico è usata la forma pluralizzata inglese viruses. Vri è errato poiché presuppone la parola vrius, come radius, radi, che non esiste. Altro plurale ipotizzabile è vr, che però richiederebbe come singolare la parola vir, che significa uomo e si rende al plurale come vr. Il termine virione, plurale virioni, coniato in francese nel 1959 nella forma virione ed entrato nella lingua italiana nel 1983, è inoltre usato per riferirsi a una singola particella virale, stabile e infettiva, che viene rilasciata dalla cellula ed è pienamente in grado di infettare altre cellule dello stesso tipo. Storia modifica modifica wikitesto Martin Hussuilam-Beyerin nel suo laboratorio nel 1921 Louis Pasteur riuscì a determinare l'agente eziologico per la rabbia e previde l'esistenza di un patogeno troppo piccolo per essere rilevato utilizzando un microscopio. Nel 1884 il microbiologo francese Charles Chamberland inventò un filtro, conosciuto oggi come il filtro Chamberland o filtro di Chamberland Pasteur, con pori di dimensioni minori di quelle dei batteri, in modo da poterli rimuovere completamente filtrando il liquido contenente i germi in sospensione. Nel 1892 il biologo russo Dmitry Ivanovski utilizzò questo filtro per studiare quello che oggi è conosciuto come il virus del mosaico del tabacco. I suoi esperimenti hanno dimostrato che estratti di foglie da piante di tabacco schiacciate e infettate rimangono infettivi dopo la filtrazione. Ivanovski suggerì che l'infezione poteva essere causata da una tossina prodotta da batteri, ma non approfondì la questione. Al momento si pensava che tutti gli agenti infettivi potessero essere trattenuti dai filtri e coltivati su un terreno nutritivo. Nel 1898, il microbiologo olandese Martinus Beyerin ripete gli esperimenti e si convinse che la soluzione filtrata conteneva una nuova forma di agente infettivo. Egli osservò che questo agente si moltiplicava solo nelle cellule che si stavano dividendo, ma poiché i suoi esperimenti non mostrarono che fosse fatto di particelle, lo chiamò contagium vivam fluidum, solubile germe di vita, e reintrodusse la parola virus. Beyerin sostenne che i virus fossero liquidi in natura, una teoria più tardi screditata da Wendell Meredith Stanley, che dimostrò che erano delle particelle. Nello stesso anno Friedrich Lofler e Paolo Frosch isolarono il primo virus animale, l'agente dell'afta epizootica, aftovirus, attraverso un filtro simile. Nel XX secolo, il batteriologo inglese Frederick Twort scoprì un gruppo di virus capaci di infettare i batteri, oggi chiamati batteriofagi, o comunemente fagi, e il microbiologo franco-canadese Felix Derelle descrisse un virus che, quando aggiunto a batteri su agar, produrrebbe aree di batteri morti. Di lui accuratamente una sospensione di questi virus e scoprì che le più alte diluizioni, concentrazioni più basse di virus, piuttosto che uccidere tutti i batteri, formavano aree discrete di organismi morti. Contando questi settori e moltiplicando per il fattore di diluizione egli riuscì a calcolare il numero di virus nella sospensione originale. I fagi furono considerati come un potenziale trattamento per alcune malattie come il tifo e il colera, ma tale idea fu messa da parte grazie all'introduzione della penicillina. Lo studio di fagi, tuttavia, ha permesso di capire alcuni aspetti dell'espressione genica e un meccanismo utile per introdurre geni estranei nei batteri. Alla fine del XIX secolo, i virus vennero classificati secondo la loro infettività, la loro capacità di essere filtrati e i requisiti per i loro ospiti viventi. Inizialmente i virus vennero coltivati solo nelle piante e negli animali. Nel 1906, Ross Granvilla-Rassan introdusse un metodo per la coltivazione nella linfa, e, nel 1913, E. Steinhardt, C. Israeli, Ender e Alambert utilizzarono questo metodo per allevare i virus destinati a diventare vaccini in frammenti di tessuto corneale di una cavia. Nel 1928, H.B. Maitland e M.C. Maitland fecero moltiplicare i virus vaccino in sospensioni di reni di galline. Il loro metodo incominciò a essere ampiamente adottato a partire dal 1950, quando il poliovirus venne coltivato su larga scala per la produzione del vaccino antipolio-mielite. Un'altra svolta arrivò nel 1931, quando il patologo statunitense Ernest William Goodpasser fece crescere il virus dell'influenza e molti altri virus nelle uova di galline fecondate. Nel 1949, John Franklin Enders, Thomas Weller e Frederick Rabans fecero crescere il virus della poliomielite in cellule in coltura su embrioni umani, il primo virus a essere coltivato senza l'uso di tessuti animali solidi o uova. Questo lavoro permise a Jonas Salk di realizzare un efficace vaccino antipolio. Le prime immagini di virus sono state ottenute in seguito all'invenzione del microscopio elettronico nel 1931, grazie al lavoro degli ingegneri tedeschi Ernst Raska e Max Nell. Nel 1935, il biochimico e virologo americano Wendell Meredith Stanley analizzò il virus del mosaico del tabacco e dimostrò che era per la maggior parte costituito da proteine. Poco tempo dopo, fu possibile separare in questo virus le proteine dall'RNA. Il virus del mosaico del tabacco è stato il primo a essere cristallizzato e la sua struttura è stata conseguentemente analizzata nel dettaglio. Le prime immagini a raggi X di diffrazione del virus cristallizzato, furono ottenute da Bernal e Fancucke nel 1941. Sulla base delle loro foto, Rosalind Franklin scoprì, nel 1955, la struttura completa del virus. Nello stesso anno, Enes Frank e il Conrad e Rabli Williams dimostrarono che il virus del mosaico del tabacco purificato e il suo rivestimento proteico sono in grado di assemblare da soli dei virus funzionali, suggerendo che questo semplice meccanismo è probabilmente stato il mezzo attraverso cui i virus vengono creati all'interno delle loro cellule ospiti. La seconda metà del XX secolo è stato un periodo d'oro per lo studio dei virus, e buona parte delle circa 5000 specie è stata scoperta nel corso di questi anni. Nel 1957 fu scoperto l'arteriviride equino, la causa della diarrea virale bovina, una pestivirus. Nel 1963 Barack Bloomberg scoprì il virus dell'epatite B, e nel 1965, Howard Temin descrisse il primo retrovirus. La trascrittasi inversa, l'enzima che i retrovirus utilizzano per fare copie di DNA del loro RNA, è stata descritta per la prima volta nel 1970, indipendentemente da Howard Martin Temin da David Baltimore. Nel 1983, il gruppo guidato da Luc Montagne, presso l'Istituto Pasteur in Francia, isolò per primo il retrovirus oggi chiamato HIV. Caratteristiche modifica modifica wiki testo I virus sono tutti parassiti intracellulari obbligati. All'esterno delle cellule ospiti sono costituiti da un virione, formato da una capsula proteica, detta capside, contenente l'acido nucleico, DNA o RNA. I virus degli eucarioti possono possedere anche una membrana che avvolge il capside detta peploso pericapside. Talvolta tra il capside e il peplos presentano un ulteriore strato proteico che prende il nome di tegumento. I virioni non possiedono metabolismo, vengono quindi trasportati passivamente finché non trovano una cellula da infettare. L'infezione di una cellula ospite richiede il legame con proteine specifiche di membrana. Nelle cellule infettate i virus perdono la loro individualità strutturale, consistono negli acidi nucleici e nei loro prodotti che assumono il controllo di parte dell'attività biosintetica cellulare al fine di produrre nuovi virioni. In alternativa, alcuni virus possono inserire fisicamente il loro genoma in quello dell'ospite in modo che sia replicato insieme con esso. Il genoma virale inserito in quello dell'ospite, detto provirus, riprende la sua individualità e produce nuovi virioni in caso di danneggiamento della cellula ospite. Origine modifica I virus forse esistono fin dall'evoluzione delle prime cellule viventi. L'origine dei virus non è tuttavia chiara poiché non formano fossili nel senso classico del termine, tecniche molecolari sono state utilizzate per confrontare il DNA o l'RNA dei virus e si sono dimostrate molto utili per indagare su come si potevano presentare anticamente. Inoltre, il materiale genetico virale può occasionalmente passare nella linea germinale degli organismi ospitanti, per cui i discendenti ospitanti avranno il virus integrato nel proprio genoma. Ciò fornisce una preziosa fonte di informazioni per i virologi per poter risalire agli antichi virus che sono esistiti liberi fino a milioni di anni fa. Vi sono tre ipotesi principali, qui di seguito descritte, che mirano a spiegare le origini dei virus. Ipotesi regressiva modifica Modifica wiki testo Questa teoria afferma che i virus potrebbero essere stati una volta delle piccole cellule parassitarie di cellule più grandi. Nel corso del tempo, i geni non richiesti dalla loro natura parassitaria sono andati persi. I batteri dei generi ricchezia e clamidia sono le cellule che, come i virus, sono in grado di riprodursi solo all'interno di cellule ospiti viventi. Essi prestano sostegno a questa ipotesi per il fatto che la loro dipendenza da parassitismo probabilmente causò loro la perdita dei geni che gli potevano permettere di sopravvivere al di fuori di una cellula. Questa ipotesi è chiamata anche di degenerazione o di riduzione. Ipotesi dell'origine cellulare modifica Modifica wiki testo Questa, talvolta chiamata ipotesi del vagabondaggio o ipotesi di fuga, consiste nel credere che alcuni virus si siano evoluti da frammenti di DNA o RNA che sono sfuggiti da geni di un organismo più grande. Il DNA fuggito sarebbe potuto provenire da plasmidi, frammenti di DNA che possono muoversi tra le cellule, o trasposoni barra retrotrasposoni, molecole di DNA che si replicano e si muovono da diverse posizioni all'interno dei geni della cellula. Una volta chiamati geni che saltano, i trasposoni sono esempi di elementi genetici mobili che potrebbero essere l'origine di alcuni virus perché hanno delle sequenze analoghe. Essi sono stati scoperti nel mais da Barbara M. Ciclintoc nel 1950. Ipotesi della coevoluzione modifica modifica wiki testo Questa è chiamata anche ipotesi del primo virus e propone che i virus si siano evoluti da molecole complesse di proteine e acidi nucleici contemporaneamente alla prima apparizione sulla terra della cellula e sarebbero rimasti dipendenti dalla vita cellulare per miliardi di anni. I viroidi sono molecole di RNA che non sono classificati come virus poiché mancano di un rivestimento proteico. Tuttavia, essi hanno caratteristiche che sono comuni a diversi virus e sono spesso chiamati agenti subvirali. I viroidi sono importanti patogeni delle piante. Questi non codificano proteine ma interagiscono con la cellula ospite e utilizzano le sue strutture per replicarsi. Il virus dell'epatite delta degli esseri umani ha un genoma RNA simile ai viroidi, ma è dotato di un rivestimento proteico derivato dal virus dell'epatite B e non può produrne uno suo. È, quindi, un virus difettoso. Sebbene il genoma del virus dell'epatite delta possa replicarsi indipendentemente all'interno di una cellula ospite, esso richiede la presenza del virus dell'epatite B che gli fornisca un rivestimento proteico in modo che possa essere trasmesso alle nuove cellule. In modo analogo, il virofago Sputnik dipende dai mimivirus, e infetta il protozoa Cantamoeba Castellanii. Questi virus, che dipendono dalla presenza di altre specie di virus nella cellula ospite, sono chiamati satelliti e possono rappresentare intermedi evolutivi dei viroidi e dei virus. In passato, vi sono stati problemi con tutte queste ipotesi, l'ipotesi regressiva non spiega il motivo per cui anche il più piccolo dei parassiti cellulari non assomiglia ai virus in alcun modo. L'ipotesi della fuga non spiega la presenza di capsidi complessi e altre strutture di particelle virali. L'ipotesi del primo virus viola la stessa definizione di virus che richiede una cellula ospite. I virus sono ora riconosciuti come molto antichi e con una data d'origine antecedente alla divergenza della vita nei tre domini. Questa scoperta ha portato i virologi moderni a riconsiderare e rivalutare le tre ipotesi classiche. L'evidenza di un mondo ancestrale delle cellule RNA e le analisi al computer di sequenze di DNA virale stanno fornendo una migliore comprensione delle relazioni evolutive tra i diversi virus e potranno aiutare a identificare gli antenati dei virus moderni. Queste analisi non hanno potuto dimostrare quale delle ipotesi formulate sia più corretta, tuttavia sembra improbabile che tutti i virus conosciuti abbiano un antenato comune e probabilmente molti virus sono nati in passato con diversi meccanismi. Microbiologia modifica modifica wikitesto. Proprietà vitali modifica modifica wikitesto. Vi è una divergenza di opinioni sulla questione se i virus siano una forma di vita o strutture organiche che interagiscono con gli organismi viventi. Sono stati descritti da un autore come organismi ai margini della vita, dal momento che assomigliano agli organismi che possiedono i geni e si evolvono per selezione naturale e si riproducono tramite la creazione di più copie di loro stessi attraverso un meccanismo di autoassemblaggio il che li farebbe anche definire come creatori di diversità. Nonostante possiedano geni, essi non hanno una struttura cellulare, aspetto che viene spesso visto come l'unità base della vita. I virus non hanno nemmeno un proprio metabolismo e necessitano della cellula ospite per realizzare nuovi prodotti. Essi, pertanto, non possono naturalmente riprodursi al di fuori di una cellula ospite. Tuttavia specie batteriche come le ricchezie e le clamidie sono considerati organismi viventi nonostante abbiano la stessa limitazione. Forme di vita accettate come tali utilizzano la divisione cellulare per riprodursi, mentre i virus si assemblano spontaneamente all'interno delle cellule. Si differenziano dalla crescita autonoma dei cristalli per il fatto che ereditano mutazioni genetiche e sono soggetti alla selezione naturale. L'autoassemblaggio dei virus nelle cellule ospiti comporta implicazioni per lo studio dell'origine della vita, in quanto conferisce ulteriore credito all'ipotesi che la vita possa aver avuto origine da molecole organiche autoassemblate. Struttura modifica modifica wiki testo. Diagramma di come un capside è in grado di costruire molteplici copie da solo due proteine. I virus mostrano una grande diversità di forme e dimensioni, chiamate morfologie. In generale, i virus sono molto più piccoli dei batteri. La maggior parte dei virus che sono stati studiati hanno un diametro tra 20 e 300 nanometri. Alcuni filovirus arrivano fino a una lunghezza totale a 1400 nm, ma il loro diametro è solo di circa 80 nm. La maggior parte dei virus non possono essere visti con un microscopio ottico e dunque per visualizzare i virioni è necessario utilizzare il microscopio elettronico. Per aumentare il contrasto tra i virus e lo sfondo, vengono utilizzati dei coloranti densi di elettroni. Si tratta di soluzioni di sali di metalli pesanti, come il tungsteno, che disperdono gli elettroni. Quando i virioni vengono rivestiti con questa macchia, colorazione positiva, i piccoli dettagli vengono oscurati. Una particella virale completa, nota come un virione, è costituita da acido nucleico circondato da un rivestimento protettivo formato da proteine chiamato capside. Questo è realizzato da subunità proteiche identiche chiamati capsomeri. I virus possono avere una sacca lipidica più esterna derivata dalla membrana della cellula ospite, detta pericapside. Il capside è costituito da proteine codificate dal genoma virale e la sua forma serve come base per la distinzione morfologica. Perché le subunità proteiche virali codificate si possano autoassemblare per formare il capside, in generale si richiede la presenza del genoma virale. Virus complessi codificano proteine che aiutano la costruzione del loro capside. Le proteine associate all'acido nucleico sono note come nucleoproteine e l'associazione di proteine del capside virale con l'acido nucleico virale è chiamato nucleocapside. Il capside e l'intera struttura del virus possono essere fisicamente sondati attraverso il microscopio a forza atomica. In generale, i virus si possono distinguere in cinque tipologie morfologiche. Elicoidale modifica modifica wiki testo. Questi virus sono composti da un unico tipo di capsomero accatastato intorno a un asse centrale, formando una struttura elicoidale, che può avere una cavità centrale. Questa disposizione comporta virioni a forma di bastoncello o filamentosi, questi possono essere brevi ed estremamente rigidi o lunghi e molto flessibili. Il materiale genetico, in generale, RNA a singolo filamento, ma in alcuni casi anche DNA a singolo filamento, è vincolato nell'elica proteica dalle interazioni tra l'acido nucleico caricato negativamente e le cariche positive poste sulla proteina. In generale, la lunghezza di un capside elicoidale è correlato alla lunghezza dell'acido nucleico in esso contenuto e il diametro dipende dalla dimensione e disposizione dei capsomeri. Il virus del mosaico del tabacco e il virus della rabbia sono esempi ben analizzati di virus elicoidale. Icosaedrica modifica modifica wikitesto La maggior parte dei virus che colpiscono gli animali sono di morfologia icosaedrica o quasi sferica con simmetria icosaedrica. Un icosaedro regolare è un modo ottimale per formare un guscio chiuso da subunità identiche. Il numero minimo di capsomeri identici richiesto è 12, ciascuno composto da 5 subunità identiche. Molti virus, come il rotavirus, possiedono più di 12 capsomeri e sembrano sferici pur mantenendo questa simmetria. I capsomeri agli apici sono circondati da altri 5 capsomeri e sono chiamati pentoni. I capsomeri sulle facce triangolari sono circondati da altri 6 e sono chiamati esoni. Gli esoni sono essenzialmente pianeggianti, mentre i pentoni che formano i 12 vertici sono curvilinei. La stessa proteina può agire come subunità sia nei pentoni sia negli esoni o possono essere composti da proteine differenti. Prolata modifica modifica wikitesto Alcuni virus hanno una forma a capsula allungata, costituita da una struttura cilindrica chiusa alle estremità da due calotte, che conferisce al virione una forma ovoidale che ricorda un dirigibile o un pallone da rugby. Si tratta in effetti di una struttura a icosaedro allungata di circa 5 volte lungo l'asse, ed è tipica delle teste dei batteriofagi. Incapsulata modifica modifica wikitesto Alcuni generi di virus sono avvolti da un involucro, detto pericapside, che ha costituzione lipidica ed è simile per struttura alle membrane cellulari. Esso viene costruito a partire da una membrana della cellula ospite infettata, la membrana esterna che circonda la cellula o le membrane interne come la membrana nucleare o il reticolo endoplasmatico, a seconda del meccanismo specifico del virus, e ne costituisce una forma modificata. Il virione ottiene così un doppio strato lipidico esterno analogo a una membrana cellulare, noto come pericapside o involucro virale, che dà alla particella una forma tondeggiante o irregolare. Questa membrana è costellata da proteine di vario tipo, codificate dal genoma virale e dal genoma ospite, la membrana lipidica stessa e qualsiasi carboidrato presente provengono interamente dall'ospite. L'involucro e le sue proteine possono agire come chiavi per penetrare all'interno delle cellule ospiti. Questa tipologia è molto diffusa tra i virus animali. Il virus influenzale e quello dell'HIV usano questa strategia, così come pure il virus sinciziale e quello della varicella, entrambi caratterizzati da un involucro irregolare. L'infettività della maggior parte di questi virus dipende dal loro involucro. Complessa modifica modifica wikitesto. Questi virus possiedono un capside che non è ne puramente elicoidale ne puramente icosaedrico e che può possedere strutture extra come code proteiche o una parete esterna complessa. Alcuni batteriofagi, come, il batteriofago 4T hanno una struttura complessa costituita da una testa icosaedrica associata a una coda elicoidale, che può avere una piastra di base esagonale con una coda proteica sporgente. Tale struttura a coda agisce come una siringa molecolare, attaccandosi al batterio ospite e per poi iniettare il genoma virale nella cellula. Virus giganti modifica modifica wikitesto. I poxvirus sono virus grandi e complessi dotati di una morfologia inusuale. Il genoma virale è associato con le proteine all'interno di una struttura centrale del disco, conosciuta come nucleoide. Il nucleoide è circondato da una membrana e due corpi laterali dalla funzione sconosciuta. Il virus ha un involucro esterno con uno strato molto spesso di proteine costellato sulla sua superficie. L'intero virione è leggermente pleimorfico, dalla forma ovoidale. Il mimivirus è uno dei più grandi virus caratterizzati, con un diametro del capside di 400 nm. I filamenti di proteine si proiettano di 100 nm dalla superficie. Al microscopio elettronico, il capside appare esagonale, quindi è probabilmente icosaedrico. Nel 2011, i ricercatori hanno scoperto il più grande virus fino allora conosciuto in campioni di acqua prelevati dal fondo dell'oceano Pacifico a largo della costa di Las Cruzas, in Cile. Provvisoriamente chiamato megavirus Chilensis, può essere visto con un microscopio ottico di base. Nel 2013, il genere Pandora virus è stato scoperto in Cile e in Australia e possiede un genoma circa due volte più grande del megavirus Chilensis e del mimivirus. Questi generi di virus differiscono enormemente tra loro per forma e genoma, ma condividono la caratteristica di infettare le amebe, e si sospetta possano essere molto comuni. Morfologie peculiari modifica Modifica wiki testo Diversità genomica tra i virus Proprietà parametri Acido nucleico 1 DNA 2 RNA 3 sia DNA sia RNA, nelle diverse fasi del ciclo di vita Forma 1 lineare 2 circolare 3 segmentata Catene 1 catena singola 2 doppia catena 3 doppia catena con sezione a singola catena Senso 1 senso positivo Più 2 senso negativo 3 ambisenso Più barra Un'enorme varietà di strutture genomiche possono essere riscontrate tra le specie virali, come gruppo, essi contengono una diversità genomica strutturale maggiore rispetto alle piante, agli animali, agli archeobatteri o ai batteri. Vi sono milioni di diverse specie di virus, anche se solo circa 5000 specie sono stati descritte in dettaglio. A settembre 2015, il database NCBI dei genoma dei virus contava più di 75000 sequenze genomiche complete, ma senza dubbio ve ne sono molte di più ancora da scoprire. Un virus può essere dotato di un genoma ADN-A o uno ARN-A e pertanto vengono denominati rispettivamente virus ADN-A o virus ARN-A, la stragrande maggioranza sono ARN-A. I virus delle piante tendono ad avere genomi composti da un singolo filamento di ARN-A mentre i batteriofagi spesso hanno un genoma ADN-A a doppia elica. I genomi virali possono essere circolari, come nel poliomavirus, o lineari come negli adenovirus. Il tipo di acido nucleico è irrilevante per la forma del genoma. Tra virus ARN-A e certi virus ADN-A, il genoma è spesso diviso in parti distinte, nel qual caso esso è chiamato segmentato. Per i virus ARN-A, ogni segmento spesso codifica per una sola proteina e si trovano solitamente in un unico capside. Tuttavia, non è necessario che tutti i segmenti siano nello stesso virione perché il virus sia infettivo, come dimostrato dal virus del mosaico del tabacco e da molti altri virus delle piante. Un genoma virale, indipendentemente dal tipo di acido nucleico, è a singolo filamento oppure a doppio filamento. Genomi a singolo filamento consistono di un acido nucleico spaiato. Genomi a doppio filamento sono costituiti da due acidi nucleici complementari accoppiati. casi tutti i virus hanno un solo tipo di filamento, singolo oppure doppio, tuttavia alcune famiglie di virus, come quelli appartenenti agli epadnaviride, contengono entrambi i tipi di filamento, ovvero hanno un genoma che è parzialmente a singolo filamento e parzialmente a doppio filamento. Per la maggior parte dei virus con genoma a RNA e alcuni con genomi a DNA a singolo filamento, i singoli filamenti sono classificati a senso positivo, chiamato filamento positivo, o senso negativo, chiamato filamento negativo, a seconda se sono complementari all'RNA messaggero virale, mRNA. L'RNA virale a senso positivo è nello stesso senso dell'mRNA virale e quindi almeno una parte di esso può essere tradotto immediatamente dalla cellula ospite. L'RNA virale a senso negativo è complementare all'mRNA e quindi deve essere convertito in RNA a senso positivo tramite una RNA polimerasi RNA dipendente prima della traduzione. La nomenclatura dei virus DNA con un genoma a un solo senso ss-DNA è simile alla nomenclatura RNA, in quanto il filamento stampo per l'mRNA virale è complementare a esso, trattino, e il filamento codificante è una copia, più. Tuttavia, diversi tipi di virus ss-DNA e ss-RNA hanno genomi che sono ambisenso e che la trascrizione può verificarsi fuori da entrambi i filamenti in un doppio filamento replicativo intermedio. Gli esempi includono i gemini virus, che sono i virus ss-DNA delle piante e molti arena virus che sono i virus ss-RNA degli animali. La dimensione del genoma varia notevolmente tra le specie. I genomi virali più piccoli, i circovirus ss-DNA della famiglia dei circoviride, codificano solo per due proteine e hanno una dimensione del genoma di due sole chilobase, il più grande dei pandora virus possono avere dimensioni del genoma di circa 2 megabasi che codificano per circa 2.500 proteine. In generale, i virus s-RNA hanno dimensioni del genoma più piccoli rispetto ai virus s-DNA a causa di un più alto tasso di errore durante la replica e hanno un limite di dimensione massima superiore. Al di là di questo limite, gli errori nel genoma durante la replica rendono il virus inutile o non infettivo. Per compensare questo, i virus s-RNA spesso hanno un genoma segmentato, il genoma risulta pertanto diviso in molecole più piccole, riducendo così la possibilità che un errore in un singolo componente inabiliti l'intero genoma. Al contrario, i virus a-DNA, in genere, possiedono genomi più grandi a causa della alta fedeltà dei loro enzimi di replicazione. I virus a-DNA a singolo filamento sono un'eccezione a questa regola, tuttavia, i tassi di mutazione di questi genomi possono avvicinarsi al caso estremo dei virus s-S-RNA. I virus subiscono mutazioni genetiche attraverso diversi meccanismi. Tra questi, un processo chiamato deriva antigenica le cui basi individuali nel DNA o RNA mutano altre basi. La maggior parte di queste mutazioni puntiformi sono silenziose, ovvero non cambiano la proteina che il gene codifica. Ma altri possono conferire vantaggi evolutivi quali la resistenza ai farmaci antivirali. Lo spostamento antigenico si verifica quando vi è un cambiamento importante nel genoma del virus. Questo può essere il risultato di una ricombinazione o un riassortimento. Quando questo accade con i virus influenzali, possono verificarsi le pandemie. I virus a-RNA spesso esistono come quasi specie o sciami di virus della stessa specie. Ma con una sequenza nucleotidica leggermente diversa del genoma. Tali quasi specie sono un obiettivo primario per la selezione naturale. Sequenze di genomi conferiscono vantaggi evolutivi. Diversi ceppi di un virus con un genoma segmentato possono mischiare e combinare i geni e quindi produrre prole virus con caratteristiche uniche. Questo è chiamato riassortimento. La ricombinazione genetica è il processo mediante il quale un filamento di DNA viene rotto per poi essere unito al termine di una diversa molecola di DNA. Questo può verificarsi quando i virus infettano cellule simultaneamente e studi riguardanti l'evoluzione virale hanno dimostrato che la ricombinazione è stata molto frequente nelle specie studiate. La ricombinazione è comune a entrambi i virus, sia a RNA sia a DNA. Ciclo di replicazione modifica modifica wiki testo. I virus non sono in grado di riprodursi attraverso la divisione cellulare poiché non sono cellule. Pertanto sfruttano il metabolismo e le risorse di una cellula ospite per produrre copie multiple di sé che si assemblano nella cellula. Il ciclo di vita dei virus varia molto attraverso le diverse specie, ma vi sono sei fasi fondamentali. 1 L'attaccamento è un legame tra le proteine del capside virale e specifici recettori che si trovano sulla superficie cellulare della cellula ospite. La presenza di dati recettori sulla superficie determina la gamma degli ospiti di un virus. Ad esempio, l'HIV infetta una gamma limitata di leuncociti umani. Questo perché le sue proteine di superficie, GP120, interagiscono specificamente con la molecola CD4, un recettore delle chemochine, che frequentemente si trova sulla superficie dei linfocititi. Questo meccanismo si è evoluto in modo da favorire quei virus che infettano solo le cellule in cui sono in grado di replicarsi. Il recettore attaccato può indurre la proteina dell'involucro virale a subire cambiamenti che si traducono nella fusione tra le membrane virali e cellulari, o cambiamenti alle proteine senza involucro di superficie del virus che non gli permettono di entrare. 2 L'ingresso segue l'attaccamento. Virioni entrano nella cellula ospite mediante endocitosi mediata da recettori o attraverso la fusione delle membrane. Questo è spesso chiamato ingresso del virus. L'infezione delle cellule delle piante e dei funghi è diversa da quella delle cellule animali. Le piante hanno una parete cellulare rigida formata da cellulosa, mentre i funghi una dicitina, quindi la maggior parte dei virus possono entrare all'interno di queste cellule solo dopo aver perpetrato una rottura alla parete cellulare. Tuttavia, quasi tutti i virus delle piante, come il virus mosaico del tabacco, possono anche passare direttamente da cellula a cellula, sotto forma di complessi a singolo filamento nucleo-proteici, attraverso i pori chiamati plasmodesmi. I batteri, come le piante, hanno pareti cellulari che un virus deve violare per infettare la cellula. Tuttavia, dato che le pareti delle cellule batteriche sono molto meno spesse delle pareti cellulari delle piante, per via delle loro dimensioni molto più piccole, alcuni virus possiedono evoluti meccanismi che iniettano il loro genoma nella cellula batterica attraverso la parete cellulare, mentre il capside virale rimane all'esterno. Tre lung coating è un processo in cui il capside virale viene rimosso, questo può essere dovuto alla degradazione da parte degli enzimi virali o agli enzimi ospiti o per semplice dissociazione, il risultato finale è la liberazione dell'acido nucleico genomico virale. Quattro. La replicazione dei virus coinvolge principalmente la moltiplicazione del genoma. La replica consiste nella sintesi dell'RNA messaggero, mRNA virale dai geni early, con eccezioni per i virus RNA a senso positivo, la sintesi proteica virale, il possibile montaggio delle proteine virali, quindi la replicazione del genoma virale. Questo può essere seguito, per i virus più complessi con genomi più grandi, da parte di uno o più cicli di sintesi di mRNA. Cinque. Assemblaggio. Dopo l'autoassemblaggio struttura mediata delle particelle virali, alcune modifiche delle proteine si verifica spesso. Nei virus come l'HIV, questa modifica, a volte chiamato la maturazione, avviene dopo che il virus è stato rilasciato dalla cellula ospite. Se rilascio, i virus possono essere rilasciati dalla cellula ospite per l'ISI, un processo che uccide la cellula rompendo la sua membrana e la parete cellulare, se presenti, questo avviene in molti batteri e di alcuni virus animali. Alcuni virus subiscono un ciclo lisogenico in cui il genoma virale è incorporato mediante la ricombinazione genetica in un luogo specifico dei cromosomi dell'ospite. Il genoma virale è quindi noto come proviruso, nel caso di un batterio fagoprofago. Ogni volta che l'ospite si divide, anche il genoma virale viene replicato. Il genoma virale è per lo più silente all'interno dell'ospite. Tuttavia, a un certo punto, il proviruso profago possono dar luogo al virus attivo, che può lisare le cellule ospiti. I virus capsulati, ad esempio, l'HIV, di solito vengono rilasciati dalla cellula ospite per gemmazione. Durante questo processo il virus acquisisce il suo involucro, che è una parte modificata del plasma dell'ospite o della membrana interna. Il materiale genetico all'interno delle particelle del virus e il metodo con cui il materiale viene replicato, varia notevolmente tra i diversi tipi di virus. Virus a DNA La replicazione del genoma della maggior parte dei virus a DNA avviene nel nucleo della cellula. Se la cellula possiede il recettore appropriato sulla sua superficie, questi virus entrano, a volte, nella cellula per fusione diretta con la membrana cellulare, per esempio, l'herpes virus, o, più spesso, per endocitosi mediata da recettori. La maggior parte dei virus a DNA dipendono interamente dal DNA della cellula ospite e dai suoi strumenti di sintesi e lavorazione dell'RNA. Tuttavia, virus dotati di genomi più grandi, possono codificare gran parte di questi stessi strumenti. Negli eucarioti, il genoma virale deve attraversare la membrana nucleare della cellula per accedere ai meccanismi di replicazione, mentre nei batteri deve solo entrare nella cellula. Virus a RNA La replicazione di solito avviene nel citoplasma. I virus a RNA possono essere classificati in quattro gruppi differenti in base alle modalità di replicazione. La polarità, se può o non può essere utilizzata direttamente dai ribosomi per produrre proteine, dei virus a singolo filamento di RNA determina in gran parte il meccanismo di replicazione, l'altro criterio principale è se il materiale genetico è a singolo o doppio filamento. Tutti i virus a RNA utilizzano i propri enzimi RNA replicasi per creare copie dei loro genomi. Virus a trascrizione inversa I virus a trascrizione inversa, possiedono SSRNA, retroviride, metaviride, pseudoviride, ODSDNA, caulimoviride, epadnaviride, nelle loro particelle. Quelli con genomi ARNA, retrovirus, utilizzano un intermedio del DNA per replicare, mentre quelli con genomi di DNA, pararetroviruse utilizzano un intermedio di RNA durante la replicazione del genoma. Entrambi i tipi utilizzano una trascrizione inversa, o un enzima DNA polimerasi, RNA dipendente, per effettuare la conversione dell'acido nucleico. I retrovirus integrano il DNA prodotto dalla trascrizione inversa nel genoma dell'ospite come provirus come parte del processo di replica, tuttavia, i pararetroviruses non lo fanno, anche se copie del genoma di particolari pararetroviruses infiltrati nei vegetali possono dar luogo a virus infettivo. Essi sono suscettibili di farmaci antivirali che inibiscono l'enzima della trascrittasi inversa, ad esempio, la zidovudina e la lamivudina. Un esempio del primo tipo è l'HIV, che è un retrovirus. Esempi del secondo tipo sono il Lepadnaviride, che comprende il virus dell'epatite B. Effetti sulla cellula ospite modifica modifica wiki testo. Vi è un'ampia serie di effetti strutturali e biochimici che i virus producono sulla cellula ospite. Questi sono chiamati effetti citopatici. La maggior parte delle infezioni da virus alla fine provocano la morte della cellula ospite. Le cause di morte sono la lisi cellulare, le alterazioni della membrana superficie della cellula e la poptosi. Spesso la morte delle cellule è causata dalla cessazione delle sue normali attività a causa della soppressione da parte delle proteine specifiche del virus, che non tutti sono componenti della particella virale. Alcuni virus non provocano cambiamenti apparenti alla cellula infettata. Le cellule in cui il virus è latente e inattivo mostrano pochi segni di infezione e spesso vivono normalmente. Ciò provoca infezioni persistenti e il virus rimane spesso in sospeso per molti mesi o anni. Ciò avviene frequentemente, ad esempio, con l'herpes virus. Alcuni virus, come il virus di Epstein-Barr, possono indurre le cellule a proliferare senza provocare malignità, mentre altri, come il papillomavirus, sono cause ormai stabilite di insorgenza di tumori. Gamma degli ospiti modifica Modifica Wikitesto I virus sono di gran lunga le più abbondanti entità biologiche sulla Terra e superano tutte le altre messe insieme. Essi sono in grado di infettare tutti i tipi di vita cellulare, tra cui animali, piante, batteri e funghi. Tuttavia, le diverse tipologie di virus possono infettare solo una gamma limitata di ospiti e molti sono specie specifici. Alcuni, come il virus del vaiolo umano, ad esempio, possono infettare solo una specie, in questo caso l'uomo, e pertanto si dice che hanno una gamma di ospiti potenziali ristretta. Altri virus, come il virus della rabbia, possono infettare diverse specie di mammiferi e si dice che hanno una gamma di ospiti vasta. I virus che infettano le piante sono innocui per gli animali e la maggior parte dei virus che infettano gli altri animali sono innocui per gli esseri umani. La gamma dei possibili ospiti di alcuni batteriofagi è limitata a un unico ceppo di batteri e possono essere usati per rintracciare la fonte di focolai di infezioni, tramite un metodo chiamato fagotipizzazione. Classificazione modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, classificazione dei virus. La classificazione cerca di descrivere la diversità dei virus nominandoli e raggruppandoli sulla base di somiglianze. Nel 1962, André Luov, Robert W. Orn e Paul Turnier per primi svilupparono un sistema di classificazione dei virus, in base al sistema gerarchico di Linneo. Questo approccio si basa sul film, sulla classe, sull'ordine, sulla famiglia, sul genere e sulla specie. I virus sono stati raggruppati in base alle loro proprietà condivise, non quelle dei loro ospiti, e al tipo di acido nucleico che forma i loro genomi. In seguito l'International Committee on Taxonomy of Viruses è stato costituito. Classificazione ICTV modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, International Committee on Taxonomy of Viruses. L'International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV ha sviluppato l'attuale sistema di classificazione e ha formulato le linee guida che attribuiscono un peso maggiore ad alcune proprietà virali per mantenere l'uniformità della famiglia. È stata istituita un tassonomia unificata, un sistema universale di classificazione per i virus. Il rapporto LCTV9 definisce il concetto di specie virale come il gruppo più basso nella gerarchia della ramificazione dei virus. Tuttavia solo una piccola parte dei virus è stata studiata, con analisi di campioni provenienti da esseri umani che hanno dimostrato che il 20% circa delle sequenze virali recuperate non sono mai state viste prima, mentre campioni provenienti dall'ambiente, come dall'acqua di mare e sedimenti oceanici hanno rivelato la presenza di una grande maggioranza di sequenze totalmente nuove. La strutturata sonomica generale è la seguente. Dominio, viria. Sottodominio, vira. Regno, virie. Sottorenzo, virit. Filum, viricota. Subfilum, viricotina. Classe, viricetes. Sottoclasse, viricetide. Ordine, virals. Sottordine, virinee. Famiglia, viride. Sottofamiglia, virine. Genere, virus. Sottogenere, virus. Specie. Nell'attuale, 2019, tassonomia ICTV, sono stati istituiti quattro domini, duplodnaviria, monodnaviria, riboviria e varidnaviria, cui si aggiungono altri virus non assegnati a nessun dominio. Il comitato non è responsabile della nomenclatura e della classificazione dei virus sotto il rango di specie, cioè di sottospecie, varietà, isolati, genotipi e sierotipi. Le regole di nomenclatura e tassonomia ICTV sono riportate nell'International Code of Virus Classification and Nomenclature, ICVCN. In totale vi sono sette ordini, 103 famiglie, 22 sottofamiglie, 455 generi, circa 2 827 specie e oltre 4 000 tipi non ancora classificati. Classificazione di Baltimore modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, classificazione di Baltimore. Il biologo premio Nobel David Baltimore ha ideato il sistema di classificazione di Baltimore. La classificazione dei virus di Baltimore è basato sul meccanismo di produzione di mRNA. I virus devono generare mRNA dai loro genomi per produrre proteine e replicarsi, ma diversi meccanismi sono utilizzati per raggiungere questo obiettivo in ogni famiglia di virus. I genomi virali possono essere a singolo filamento, SS o doppio filamento, DS, RNA o DNA, e possono o non possono utilizzare la trascrittasi inversa, RT. Inoltre, i virus SSRNA possono essere sia senso, più, sia antisenso, trattino. Questa classificazione pone i virus in sette gruppi. Unoi, virus DS DNA, papilloma viride, herpes viride, pox viride. Due due, virus SS DNA, senso più, DNA, ad esempio, parvovirus. Tre tre, virus DS RNA, ad esempio, reoviride. Quattro quattro, virus, virus, più, SS RNA, senso più, RNA, e spicorna viride, toga viride. Cinque v, virus, SS RNA, antisenso, RNA, e srabdo viride. Seisei, virus SRNA RT, senso più, DRNA con intermedio DNA nel ciclo di vita, ad esempio retrovirus. Sette sette, virus DS DNA RT, ad esempio epadna viride. Come esempio di classificazione virale, il virus della varicella, il varicella Zoster, VZV, appartiene all'ordine herpes virales, famiglia herpes viride, sottofamiglia alfa herpes virine e genere varicello virus. VZV è nel gruppo 1 della classificazione Baltimore perché è un virus DS DNA che non utilizza la trascrittasi inversa. Ruolo nelle malattie umane modifica modifica wikitesto. Panoramica dei principali tipi di infezioni virali e le specie più importanti coinvolte. Esempi di comuni malattie umane causate da virus includono il raffreddore comune, l'influenza, la varicella e l'herpes labiale. Vi sono anche gravi condizioni, come l'IDS, la malattia da virus Ebola, l'influenza aviaria, la SARS, MERS, e la COVID-19 che sono causate da virus. La capacità relativa di un virus di causare una malattia è descritta in termini della sua virulenza. Altre patologie sono tatogi indagate per scoprire se hanno un virus come agente causale, come ad esempio se vi sia una possibile connessione tra l'herpes virus umano 6, HHV6, e malattie neurologiche come la sclerosi multipla e la sindrome da affaticamento cronico. Vi sono accesi dibattiti sulla possibilità che il bornavirus, ritenuto causa di malattie neurologiche nei cavalli, possa essere anche responsabile per alcune malattie psichiatriche negli esseri umani. I virus hanno differenti meccanismi per cui causano una malattia in un organismo, i quali dipendono in larga misura dalla specie virale. Meccanismi a livello cellulare comprendono principalmente la lisi cellulare, che comporta la rottura della cellula e la sua conseguente morte. Negli organismi pluricellulari, se un numero abbastanza consistente di cellule muoiono, l'intero organismo incomincerà a subirne gli effetti. Sebbene i virus causino la perdita dell'omeostasi, con conseguente insorgenza di una malattia, possono esisterne di relativamente innocui all'interno di un organismo. Un esempio potrebbe includere la capacità del virus dell'herpes simplex, responsabile dell'herpes labiale, di rimanere in uno stato inattivo nel corpo umano, una condizione denominata di latenza che è una caratteristica dei virus herpes, tra cui il virus di Epstein-Barr, che provoca la febbre ghiandolare, e del virus della varicella zoster, causa della varicella e dell'herpes zoster. La maggior parte delle persone al mondo, nella loro vita, sono state infettate con almeno uno di questi tipi di herpes virus. Tuttavia, questi virus latenti possono talvolta essere utili, infatti la presenza del virus può aumentare l'immunità contro alcuni batteri patogeni, come lo Yersinia pestis. Alcuni virus possono causare un'infezione permanente o cronica, in cui i virus continuano a replicarsi nel corpo, nonostante i meccanismi di difesa dell'ospite. Questo è comune nei virus dell'epatite B e nelle infezioni da virus dell'epatite C. Le persone con una infezione cronica sono note come vettori, in quanto fungono da serbatoi del virus infettivo. Nelle popolazioni con un'alta percentuale di portatori, la malattia si dice che sia endemica. Epidemiologia modifica modifica wiki testo. L'epidemiologia virale è una branca della scienza medica che si occupa di studiare la trasmissione e controllare le infezioni da virus negli esseri umani. La trasmissione di virus può essere verticale, cioè da madre a figlio, o orizzontale, cioè da persona a persona. Esempi di trasmissione verticale comprendono il virus dell'epatite B e l'HIV, in cui il bambino nasce già infettato con il virus. Un altro, più raro, esempio è il virus della varicella Zoster, che, pur causando infezioni relativamente lievi negli esseri umani, può essere fatale per il feto e il neonato. La trasmissione orizzontale è il meccanismo più comune di diffusione del virus nelle popolazioni. La trasmissione può verificarsi quando vi è scambio di fluidi corporei durante un rapporto sessuale, come nel caso dell'HIV, o quando vi è contaminazione di sangue infetto come durante una trasfusione o con lo scambio di aghi, come spesso si riscontra nella trasmissione dell'epatite C, lo scambio di saliva dalla bocca, per esempio può portare alla trasmissione del virus di Epstenbar, il norovirus può trasmettersi con l'ingestione di cibo o acqua contaminati, il virus dell'influenza per inalazione, mentre insetti vettori, come le zanzare, trasmettono all'organismo ospite alcuni virus come quello della febbre dengue. Il tasso o la velocità di trasmissione delle infezioni virali dipende da vari fattori che includono la densità della popolazione, il numero dei soggetti suscettibili, cioè quelli che non immuni, la qualità dell'assistenza sanitaria e il tempo. Quando un focolaio d'infezione provoca una percentuale insolitamente alta di casi in una popolazione o in una regione si parla di epidemia. Se i focolai sono diffusamente distribuiti nel pianeta si parla di pandemia. Tramite l'epidemiologia si tenta di interrompere la catena delle infezioni durante le epidemie di malattie virali. Le misure di controllo utilizzate si basano sulla conoscenza delle modalità di trasmissione del virus. È fondamentale trovare la fonte o le fonti del focolaio in modo da identificare il virus, la cui catena di trasmissione può talvolta essere interrotta grazie a vaccini. Quando questi non sono disponibili, misure di igiene e di disinfezione possono essere rimedi efficaci. Le persone infette possono essere isolate dal resto della comunità e quelle che sono state esposte al virus poste in quarantena. Per controllare l'epidemia di afta epizootica del 2001 in Gran Bretagna sono stati abbattuti migliaia di bovini. Le infezioni virali degli esseri umani e degli altri animali hanno periodi di incubazione che variano da pochi giorni a settimane e sono noti per la maggior parte delle infezioni. Con una piccola sovrapposizione, al termine del periodo di incubazione vi è il periodo di contagiosità, in cui un individuo infetto può trasmettere la malattia. Anche questo periodo è noto per molte infezioni virali e la conoscenza della durata di entrambi i periodi è importante nel controllo dei focolai. Epidemie e pandemie modifica modifica wikitesto. Le popolazioni dei nativi americani furono decimate dalle malattie contagiose, in particolare dal vaiolo, portate dai coloni europei in America. Non è chiaro quanti siano deceduti a causa delle malattie importate dagli stranieri dopo l'arrivo di Colombo, ma le stime indicano un possibile 70% della popolazione indigena. Tutto ciò ha contribuito in modo significativo ai tentativi europei di spostare e sottomettere la popolazione nativa. Una pandemia è un'epidemia mondiale. La pandemia influenzale del 1918, chiamata influenza spagnola, che durò fino al 1919, fu catalogata come pandemia di livello 5, causata da un virus influenzale particolarmente aggressivo e mortale. Le vittime furono spesso giovani adulti sani, in contrasto con la maggior parte dei focolai di influenza che colpiscono prevalentemente i pazienti pediatrici, gli anziani o gli individui già indeboliti. Le stime più datate indicano che questa pandemia abbia ucciso tra le 40 e le 50 milioni di persone, mentre ricerche più recenti suggeriscono che tale dato potrebbe arrivare fino a 100 milioni di persone, il 5% della popolazione mondiale del 1918. La maggior parte dei ricercatori ritiene che l'origine del virus HIV sia nell'Africa subsahariana e che sia nato nel corso del XX secolo. Anche la sua diffusione è oramai considerata una pandemia, con una stima di 38,6 milioni di persone infettate in tutto il mondo. Le stime del programma delle Nazioni Unite per l'AIDS-HIV, UNEDS, e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, indicando che l'AIDS, la condizione dovuta al virus HIV, abbia ucciso più di 25 milioni di persone dal 5 giugno 1981, quando è stato riconosciuto, rendendola una delle epidemie più devastanti della storia. Nel 2007 sono state stimate 2,7 milioni di nuove infezioni da HIV e 2 milioni di decessi correlati alla condizione. Diversi agenti patogeni virali altamente letali sono membri dei filoviride. I filovirus sono virus simili a filamenti che causano febbre emorragica, e comprendono l'Ebola virus e il Marburg virus. Il virus di Marburg, scoperto nel 1967, ha attirato l'attenzione dei media nel mese di aprile 2005 per un focolaio in Angola. Il virus della malattia da virus Ebola ha causato epidemie intermittenti con alti tassi di mortalità, dal 1976 quando è stato identificato. Quella peggiore e più recente è stata l'epidemia di in Africa occidentale del 2014. Tumore modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio, oncovirus. Si è stabilito che i virus siano una causa di tumore negli esseri umani e in altre specie. Tuttavia, i tumori virali si verificano solo in una minoranza di persone, o animali, infette. I virus causa di tumore possono far parte di diverse famiglie di virus, compresi i virus RNA e DNA e quindi non esiste un unico tipo di oncovirus, un termine ormai obsoleto. Lo sviluppo della neoplasia è determinato da una serie di fattori come ad esempio l'immunità dell'ospite e le sue mutazioni. I virus ritenuti in grado di provocare tumori negli umani comprendono alcuni genotipi di papillomavirus umano, il virus dell'epatite B, il virus dell'epatite C, il virus di Epstein-Barr, l'herpes virus associato al sarcoma di caposi e il virus tilinfotropico dell'uomo. Il virus causa di tumore umano più recentemente scoperto è un poliomavirus, poliomavirus delle cellule di Merkel, che causa la maggior parte dei casi di una rara forma di tumore della pelle, chiamato carcinoma a cellule di Merkel. I virus dell'epatite possono sviluppare una infezione virale cronica che può portare al tumore del fegato. L'infezione da virus tilinfotropico dell'uomo può portare a paraparesi spastica tropicale e la leucemia a cellule T dell'adulto. I papillomavirus umani sono una causa consolidata di tumori della cervice uterina, della pelle, dell'ano e del pene. Gli herpes virus umano 8 provoca il sarcoma di caposi, mentre il virus di Epstein-Barr causa il linfoma di Burkitt, il linfoma di Hodgkin, disordini linfoproliferativi dei linfociti B e il carcinoma nasofaringeo. Il poliomavirus delle cellule di Merkel è strettamente correlato al simian virus 40 e al poliomavirus del topo, entrambi vengono utilizzati, da oltre 50 anni, come modelli animali per i virus tumorali. Meccanismi di difesa dell'ospite modifica modifica wiki testo. Lo stesso argomento in dettaglio. Sistema immunitario. La prima linea di difesa dell'organismo contro i virus è il sistema immunitario innato. Questo comprende le cellule e gli altri meccanismi che difendono l'ospite da infezioni in modo non specifico. Ciò significa che le cellule del sistema innato riconoscono e rispondono agli agenti patogeni in modo generico ma, a differenza del sistema immunitario adattativo, esso non conferisce un'immunità duratura. L'interferenza dell'RNA è un'importante difesa innata contro i virus. Molti virus adottano una strategia di replica che coinvolge l'RNA a doppio filamento, DSRNA. Quando un virus infetta una cellula, rilascia la sua molecola di RNA che si lega immediatamente a un complesso proteico chiamato ribonucleasi terzo che taglia l'RNA in pezzi più piccoli. Un percorso biochimico, il complesso risk, si attiva assicurando la sopravvivenza cellulare degradando il mRNA virale. I rotavirus si sono evoluti per evitare questo meccanismo di difesa evitando di tagliare completamente l'RNA all'interno della cellula ma rilasciando una nuova produzione di mRNA attraverso i pori del capside interno della particella. In questo modo il loro DSRNA genomico resta protetto all'interno del nucleo del virione. Quando il sistema immunitario adattativo di un vertebrato incontra un virus, produce anticorpi specifici che si legano a esso e spesso sono in grado di renderlo non infettivo. Ciò è chiamata immunità umorale. Due tipi di anticorpi sono importanti. I primi, chiamati IgM, sono altamente efficaci nel neutralizzare i virus, ma vengono prodotti dalle cellule del sistema immunitario solo per poche settimane. I secondi, chiamati IgG, vengono prodotti di continuo. La presenza di IgM nel sangue dell'ospite viene utilizzato per diagnosticare la presenza di una infezione acuta, mentre le IgG indicano un'infezione passata. Quando i test di immunità vengono effettuati, vengono misurati gli anticorpi IgG. Gli anticorpi possono continuare a essere un meccanismo di difesa efficace anche dopo che i virus sono riusciti a ottenere l'ingresso nella cellula ospite. Una proteina presente nelle cellule, chiamata Trin-21, è in grado di legarsi agli anticorpi sulla superficie della particella virale. Questo innesca la successiva distruzione del virus da parte degli enzimi del proteosoma della cellula. Una seconda difesa dei vertebrati contro i virus, si chiama immunità cellulo-mediata e coinvolge le cellule immunitarie conosciute come cellule T. Le cellule del corpo mostrano costantemente brevi frammenti delle loro proteine sulla superficie della cellula e se una cellula ti riconosce un frammento virale sospetto, la cellula ospite viene distrutta dalle cellule T killer e le cellule T virus specifiche proliferano. Le cellule, come i macrofagi sono specialisti